ciao ragazze benvenute in un nuovissimo video shopping secondo che vedrete today non so se riuscirò a farne tre sicuramente due allora parto subito che i miei capelli poverini sono allo stato brado devo andare assolutamente dal parrucchiere a fare ricrescita tonalizzante e sistemare un po le lunghezze in ogni caso eccomi con un nuovo video allora ho selezionato alcune cosine interessanti per voi adesso sono le 14 53 del 4 marzo 2024 la prima che ho segnalato per voi cioè ho selezionato è una cinturina che mi è arrivata gioiello so che mi piacciono sempre tantissimo e questa è stupenda ed è difficile trovarle sto guardando se c'ha tutti gli strass perché c'è uno qua che è giallino non capisco se manca o se c'è vabbè cinturina gioiello meravigliosa fatta proprio a cintura io le trovo sempre tutte rovinate praticamente ma già anche a prezzo pieno non so se capita anche a voi allora il corpo così qui c'è una c'è uno strass che non capisco se c'è o non c'è vedete che è giallino vi giuro che è talmente è talmente brillante che non si riesce a capire vabbè comunque c'è questo strass qui che è un po strano per il resto il corpo della cintura è questo e finisce così tutta con gli strass che meraviglia no sono solo un po sul giallino ma ci sono perché anche di qua ce ne sono un po così quindi in realtà è completa bellissima cerchiamo di capire insieme la taglia la provo su di me così vi fate un'idea secondo me è una taglia media perché vedete cioè a me in realtà arriverebbe fino a qui quindi sì taglia media vedete poi la dovete chiudere questa meraviglia qua viene 3,50 euro è bellissima tutta metallizzata gioiello ed è ottimo anche il prezzo gli strass comunque ci sono tutti o ne mancano non riesco a capire vabbè comunque 3,50 euro è un ottimo affare non si capisce perché alcuni sembrano ingialliti ma ci sono però comunque talmente un effetto vedo non vedo che non sono così evidenti che ci siano non ci siano vabbè ve la sconto 2 euro perché non voglio avere responsabilità poi ho selezionato dei pantaloni qua tre paia un pantaloncino il primo è questo che è molto carino di H&M taglia 40 opti bianco e nero vita super alta è molto particolare ha sigaretta cioè skinny mi piace perché ha anche se non si vedono le taschine qui particolari vedete alte e dietro alla zip taglia 40 italiana super skinny H&M ottime condizioni viene 3 euro che è un ottimo prezzo insomma e bianco e nero così super opti è bellissimo oddio mi sembrava che ci fosse dietro qua qualcuno che spavento un'altra sorta di specie cargo diciamo so che questa tipologia di pantaloni vi piacciono tanto e quando mi arrivano sono stra felice di farveli vedere e questo devo capire come si chiude ah c'ha proprio i ganci così vabbè strano allora questo è della di Ujoo di Ujins scusate la linea di Ujoo la linea jeans taglia 42 28 è un cargo grigio che tende quasi al verde militare così vita bassa molto carino però col fondo col polsino leggero bellissimo qua c'ha tipo dei gancetti che penso che bisognerà tipo legarli di qua tipo così cioè sto perdendo un sacco di tempo e cioè li allacciate così praticamente vabbè ce la possiamo fare sempre con queste unghie che devo andare a fare mercoledì ma tanto sono sempre lunghe vabbè i gancetti sono da lacciare così è molto carino questo pantalone è un po' a vita bassina dietro alla scritta gli Ujins tutta con le boerchiette e non sotto non so cosa ci sia scritto ma non lo so vabbè e mi piace un sacco la parte della gamba finale ed è leggerissimo di un ottimo materiale i pantaloni di Ujoo sono molto carini a differenza di altri tipologi di accessori che mi piacciono un po' meno questo pantalone qua ragazzi viene 3,90 euro ed è un bellissimo pantalone cargo un po' a vita bassina ma abituiamoci ragazzi perché qui arriverà ste vita bassa e noi saremo impreparate ho un vintage shorts che sono innamorata io i coveri taglia 48 ora adesso a me va bene tutto però che mi dite che questa è una taglia 48 cioè questo è un 40 42 48 ragazze poi vabbè ok l'ha sticizzato ma neanche più di tanto vi consiglio massimo fino alla 42 è un vintage tipo ciclista pantaloncino di Enrico Covery con le scrittine qua colorate Enrico Covery viene 4,50 euro ed è una meraviglia vintage da portare anche come ciclista today io indosso dei ciclisti che non sono belli come questi però sono tipo con il laccettino così sono aspettate sono di di talli questi qua vedete qua vanno l'etichetta e il laccetto vabbè sono molto comodi questa felpona non era abbastanza lunga per fare il vestito taglia 48 insomma camicetta questa è di Camayeur tutta quadri salmone blu bellissimo colore questa è una taglia media 44 anche morbida mi avvicino è di Camayeur in ottime condizioni viene 3,50 euro e questa è proprio la classica camicia da mettere sotto la sal cioè con sopra la sal perché no ah avevo selezionato ancora un paio di foulard cioè pensate voi di non vedere foulard vabbè ma in primavera ci stanno sono uno più bello dell'altro sono tutti praticamente vintage questo è con questo questa quest'isola meravigliosa vintage viene 1,90 euro bellissimo tipo fazzoletto diciamo ma per il ma sono bellissimi poi per chi ha problemi di voce tipo me che dovrebbe usarli questo invece è vintage e questo su delle macchioline tipo che sono macchioline secondo me dell'usura viene 1 euro ma è stupendo con tutte queste chiavi ha delle macchioline tipo di ingiallimento che assolutamente potrebbero venire via con il lavaggio viene 1 euro per questo motivo però è stupendo anche portati così se sono vintage non è un problema perché le cose sono praticamente segnate diciamo dal tempo poi voglio farvi vedere anche questa bella borsa in camoscio in pelle che è arrivata borsa da giorno che vi piacciono sempre un sacco guardate come sta bene col giallino è una borsa scamosciata in vera pelle fatta così scamosciata grande bellissima proprio da portare a mano anche a spalla si può portare questa guardate che meraviglia è proprio un bel camoscio all'interno è tutto in tessuto si chiude poi così con il gancetto e ha anche la zip ovviamente è bellissima ragazze questa borsa viene 8 euro vintage ovviamente è un effetto used legato al camoscio si può trattare in tante maniere è ottimo il prezzo questa è proprio la borsa da battaglia di tutti i giorni ma non ve ne libererete mai perché è in pelle scamosciata quindi ci sono anche dei prodotti proprio per trattarla secondo me è un ottimo prezzo poi un gemello questo ho visto prima poi devo farglielo vedere perché mi ricorda tantissimo la primavera l'estate i colori meravigliosi questo taglia M questo è un 44 tipo anni 2000 diciamo gemellino fatto così canotta e golfino ok viene 4 euro l'intero gemellaggio molto carino camicia vintage oggi chicchiette vintage guardate che meraviglia con il doppio petto allora qua siamo sul 44 anche morbido anche verso un 46 in caso ve la misuro guardate i bottoni di questa camicia doppio petto cioè tipo doppio petto bianca con tutti i pua blu è spettacolare ripeto 44 anche morbido eventualmente viene 6 euro e 50 è un ottimo capo vintage non ho mai visto una camicia con i bottoncini fatti così soprattutto a pua e la trovo meravigliosa ad abbinare al jeans ad abbinare ai pantaloni blu è spettacolare abitino easy easy taglia 40 di H&M marighine bianco e nero per tutti i giorni per l'estate fresco e morbido e carino con la spallina scesa adoro questi abitini qua viene 2,90 euro è in ottime condizioni arriva al ginocchio easy 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 adesso si può mettere anche quelle converse un po' che non parliamo più di converse pantalone preso da la rella sfortunata ma è molto carino rosso di motivi tipo vintage anche questo e è una taglia 40 ragazze lino 52 viscosa 48 ottimo il materiale è un pantalone gamba larga vintage vita alta un rosso scuro di motivi taglia 40 e viene 3,90 euro ottimo il prezzo bellissimo il colore fresco il materiale e che volete di più? e che volete da me di più di questo? mi chiedete sempre anche gonne lunghe ho trovato questa guardate che bella di lumina taglia unica c'ha pure le tasche un po' stroficciata perché era negli scatoloni quindi taglia unica fino a 46 non abbondante taschine questo va bene anche a 40 42 adoro il bianco con questi mega può azzurri viene 6,90 euro e va bene questa con la camicia di jeans con le t-shirt con le bluse azzure con le camicie bianche è bellissima bellissima e vi devo già fare la parte 2 insomma e vi devo già